Spaventoso incidente a Badialpino lungo la strada provinciale 21 nel primo pomeriggio. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. A bordo una donna di 58 anni di civitella rimasta ferita. La donna è stata trasportata alle scotte di Siena in codice rosso, ha riportato traumi all'addome, alla schiena e gli atti inferiori. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto la 58enne dall'abitacolo, i carabinieri per rilievi di legge ed i sanitari del 118. La donna è stata trasferita in elicottero alle scotte di Siena.